capo elettricista che ore sono? si mangiamo con tutta la coppa? alle 4 e mezzo un commento? su questa notte al cimitero? non c'è Pierangelo come va? si sveglio? e certo non sono svegli siamo ancora si ma c'è questa coppa dove trovo la mano? io il bordonaro e il venticello che ci sta uccidendo si stava tutto bene signor militare un commento sul set? meraviglioso che ti voglio dire abbiamo due occhiai che ci poti mai fare la spisa donna alimenti come va? tutto a posto nonostante il freddo riusciamo a sopportare anche i morti si fanno un baffo si? Ivan? dica cosa? come si sente? dai diamanti non nasce niente dall'età ne nascono le fiori io devo andare in bagno direttore lei ne approfitta c'è lei? io sono ce la faremo ce la faremo andiamo al nostro Darragh il nostro misterioso Darragh Darragh sei tutto nero non si vede un cazzo l'importante è la forma fuori dal recinto trasmette passione che si chiudono non si vede un po' un bello non si vede un po'